Oggi parliamo nuovamente di una soluzione per realizzare fotografie quando c'è poca luce. Molto spesso abbiamo parlato del treppiede e delle volte in cui siamo costretti a usarlo, ma che cosa succede se non vogliamo con noi quel tipo di ingombro o se non possiamo portarlo? Oggi vi propongo una soluzione in collaborazione con Sirui. Questo qui è un monopiede, uno strumento che come potete vedere viene con la sua borsa brandizzata. Io come mio solito adoro le borse, quindi quando mi mandano qualcosa con la borsa sono già contento così. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni per lavoro. Su questo canale YouTube porto le mie esperienze in maniera tale che tutti quanti possiamo imparare qualcosa. Prima di cominciare però ricordo a tutti quanti di iscriversi, perché quelli che si iscriveranno adesso avranno l'80% di probabilità in meno di tornare a casa con delle fotografie mosse quando c'è poca luce. Andiamo ad aprire questa borsa in maniera tale che vi faccio vedere che cosa c'è dentro. Come sempre per le mie collaborazioni seleziono solamente prodotti che mi hanno convinto, che mi piacciono realmente. In questa maniera quando mi arrivano, anche se sono un video in collaborazione, non ho nessun problema a parlarvi molto bene del prodotto perché ho guardato le specifiche, l'ho analizzato e l'ho anche selezionato insieme all'azienda in maniera tale che fosse un qualcosa che mi tornava utile e di cui apprezzassi le caratteristiche. E in questo caso abbiamo a che fare con un monopiede, quindi come potete vedere è come se fosse una gamba singola di un treppiede con delle caratteristiche molto interessanti. Andiamo a vederle una per uno. Innanzitutto la testa. La testa si può sganciare con un sistema a pressione. Questo bisogna stare un pochino attenti perché ovviamente se lo sganciamo con la fotocamera sopra e non la stiamo tenendo cade. Però bisogna stare un po' attenti. Qui abbiamo un sistema con uno sgancio a pressione da cui possiamo estrarre la vite e quindi abbiamo la vite piccola e la vite grande a seconda del dispositivo che andiamo a montare sopra questo monopiede. Andiamo a reinserire la sua vite che si blocca da sola. Su questa testa ci sono due gocce, quindi possiamo andare a metterlo in bolla con queste due gocce. Dopodiché a pressione andiamo a rimetterlo e lui non si muove più. Abbiamo la tracollina sempre brandizzata per tenerlo in mano, quindi possiamo anche usarlo come bastone da passeggio se proprio ci piace. La cosa che mi è piaciuta, le cose che mi sono piaciute sono due. Innanzitutto il terminale. Il terminale, come potete vedere, dispone di piedini che vanno in posizione a click e quindi questo noi adesso possiamo posarlo a terra. Oltretutto qui abbiamo una farfalla per cui questo può andare a essere ruotato. Questo ovviamente è comodo perché ci consente di muovere il nostro monopiede, quindi io questo lo vado a mettere dall'altra parte e quindi a questo punto lui è stabile ma io posso muoverlo, orientarlo e posso anche usarlo per fare delle carrellate video. E questa è una cosa molto interessante. Ovviamente posso anche bloccarlo e lui non si muove più e vi dirò che io l'ho provato con in cima una Canon EOS R6 col 24-105 e lui sta in piedi, sta in piedi da solo anche se non lo tocchi, anche con su una macchina relativamente pesante come quella. La base è bella larga, vedete questa è sicuramente una base che è in grado di ospitare anche delle macchine importanti e comunque lui ha una bella capienza, tiene diverso peso. L'altra cosa che mi è piaciuta molto è il sistema di sgancio. Come potete vedere qui abbiamo una vite, ora cerco di farvelo vedere nel momento in cui io vado a girare questa vite e quindi lo sblocco, a questo punto lui si estende e si estende per un'altezza ragguardevole. Ora io lo poso a terra, ok, l'ho posato a terra e adesso lo tiro su e la cosa che a me piace molto di questo sistema di sirui con lo sgancio rapido è che io parto da terra e lo tiro su e arrivo alla posizione in cui voglio dopodiché lo chiudo e lui rimane lì nella posizione in cui l'ho tirato su. Sì, adesso è storto, però io ovviamente posso agire sulla farfalla come vi ho fatto vedere prima e posso spostarlo. Adesso con le sue due gocce posso andare a metterlo in bolla e una volta che lo stringo lui non si muove più ed è in grado di tenere sulla mia fotocamera, il mio smartphone, la mia videocamera quello che decido di utilizzare. Ovviamente, quando è che questo sistema è un valido ausilio? Secondo me in tutte quelle situazioni dove per qualsivoglia motivo non vogliamo portarci dietro un treppiede intero. Perché? Innanzitutto perché questo è più leggero vi metterò in sovraimpressione le caratteristiche come la lunghezza totale e il peso che francamente a memoria non ricordo però questo è sicuramente più leggero di un treppiede come qualità delle finiture è assolutamente top e anzi è della stessa serie del treppiede video sempre di Sirui che ho già recensito sul canale quindi andate a recuperarvi anche quell'altro video lo metterò comunque in sovraimpressione quindi andatevelo a recuperare perché anche quello merita. È un prodotto secondo me fatto molto bene la caratteristica premiante appunto è che pesa meno di un treppiede possiamo portarlo in posti dove con un treppiede non ci farebbero entrare è molto rapido da montare e smontare vedete due movimenti io lo richiudo richiudo la vite e a questo punto posso andare a richiudere i suoi piedini questi hanno un meccanismo a pressione spero che riusciate a vederlo qui c'è un pulsantino io premo e chiudo perché altrimenti lui è bloccato ma io premo e chiudo premo e chiudo e in un battibaleno lui è potenzialmente pronto per essere riposto lo strumento è leggero non è assolutamente pesante inoltre come vi dicevo le finiture sono proprio belle quindi al tatto vedete che qui abbiamo la parte lucida e qui abbiamo la parte gommata è molto piacevole al tocco quindi da portare in giro non è assolutamente fastidioso non è particolarmente pesante ma soprattutto secondo me con questo spesso e volentieri vi fanno entrare anche in posti dove con un treppiede vero e proprio non vi farebbero mai entrare vi faccio un esempio su tutti non sono sicuro che questo sarebbe ammesso ma io sono stato all'Opera Garnier a Parigi un po' di tempo fa e c'è proprio il cartello no treppiedi ora il treppiede ha tre gambe ma questo ha una gamba sola e quindi è possibile che con questo riusciamo a bypassare questi regolamenti per esempio e visto che questo comunque la nostra fotocamera la regge ragazzi ovviamente attenzione se mettiamo la nostra camera qui sopra stiamo lì non ci allontaniamo non andiamo a cinque metri perché se passa qualcuno se c'è un colpo di vento o se semplicemente non abbiamo stretto bene una vite poi questo non è fatto per essere lasciato lì e quindi è possibile che ci sia una caduta con conseguente danno della strumentazione ma è colpa nostra perché se noi lo teniamo in posizione stiamo comunque nei pressi facciamo magari un autoscato o una ripresa video lui è stabilissimo e sta lì tranquillamente certo non allontaniamoci e stiamo lì pronti a ogni evenienza perché se dovesse esserci il minimo problema siamo pronti lo agguantiamo e lo riteniamo fermo e al massimo ripetiamo la nostra fotografia o la nostra ripresa video senza nessunissimo problema io vi posso dire che sto utilizzando questo amico per un po' di lavori che sto andando a fare perché effettivamente quando devo fare delle carrellate video in maniera molto rapida semplice alla veloce è molto meglio questo rispetto a un treppiede tradizionale perché è più leggero e ci metto meno tempo a questo punto fatemi sapere in un commento se volete vedere in un prossimo capitolo i risultati dei lavori che sto facendo sia con questo sia col treppiede video io sto facendo i backstage poi al massimo li butto via se non ve ne frega niente però fatemi sapere in un commento se volete vedere i lavori effettivamente che vengono fuori utilizzando questa strumentazione secondo me c'è della roba interessante per cui ditemi che li volete vedere così facciamo un altro video di recap su tutta la strumentazione che mi è stata mandata da questa azienda e vi faccio vedere i lavori che sono stati tirati fuori a questo punto io vi chiedo come sempre conoscevate il monopiede? l'avete mai utilizzato? oppure preferite il treppiede? oppure siete persone da run and gun che preferiscono essere libere con la macchina in mano? fatemelo sapere qui sotto in un commento io vi invito anche a iscrivervi così non vi perdete i prossimi episodi con altre recensioni ma anche spiegazioni di tecniche creative chi più ne ha più ne metta vi ricordo anche che io rispondo ai vostri commenti con degli shorts verticali molti di voi che commentano non si sono ancora iscritti questo è il momento di farlo se no poi vi perdete le risposte io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me io e Sirui vi diamo appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao